Volevo semplicemente mostrarvi questa mappa con questa texture pack Ok ragazzi se volete la texture di prima commentate Però sappiate che cambia tutti gli item, è fighissima come texture della famiglia della John Smith E' veramente figa, io la usavo molto spesso quando iniziai a giocare a Minecraft Quando iniziarono ad uscire appunto le skin in HD E ragazzi siamo tornati al nostro finile, intanto un grazie di cuore a tutti per essere bastardi Arrivate a 5000 pollici in su in due ore per cui come promesso devo caricarvi altri due video entro oggi Ragazzi questo è il primo Abbiamo pirlo e pirla, mi avete detto di metterli dentro perché sono qua fuori Rischiano, poi si bagnano se piove Piove però se non li faccio alzare sono più pirla io di loro Ecco facciamoli alzare, pirlo e pirli Li mettiamo dentro a fare la guardia e li leghiamo qua Vai Bam, così non si muovono Ok Poi dobbiamo andare a prendere altri cavalli ragazzi Io prenderei una sella Bam Eiii Andrei a prendere altri cavalli Io qua dietro so che ce n'erano alcuni Ora Ragazzi mentre prendiamo i cavalli Poi magari quelli di colori uguali li mettiamo nella stessa stalla Per farli accoppiare Poi vi spiego come si accoppiano i cavalli Molti di voi già lo sapranno Ma Ve lo faccio rivedere Ci sono due creeper Uno e due Vabbè questo Tre sessanta Sono un coglione Combatte contro i creeper Che quasi quasi Lui morirà E c'è un cavallo E devo tipo salire Devo salire Ah Che pirla che sono Sono pieno nell'inventario Totino ha una bistecca marcia Perché devo salire Non voglio la bistecca Ragazzi Vieni a farlo per qualche tempo Fino a che lui non si affezioni a noi Vuoi una bistecca Scretro Fino a che lui non ci dia i cuoricini Eccoli qua i cuoricini Shift tasto E' bello Sto spiegando Oh Dicevo shift tasto destro Anzi neanche Si così Li mettiamo la sella Lo cavalchiamo E lo portiamo a casa Ho spaccato tutto Più o meno Ho rimesso la texture pack Quella che a me A mio parere sembra figa Giusto per magari fare qualche minuto E vedere Intanto ragazzi da notare che in 3d Guardate l'erba come fuori esce In 3d Il cielo è fantastico Poi magari vi faccio vedere anche gli alberi Guardate la sella E' più Medioevale Cioè è più Per quello dobbiamo fare noi Appunto è fantastico Perché siamo noi Siamo nell'oriente No nell'oriente Nel Nel Vabbè ecco la cosa lì ragazzi Nella Siamo cinesi Allora Aspetta è uguale È uguale Ma vai dentro A fare l'amore con il sapore Vai Allora ragazzi Come Come si accoppiano i cavalli Devo tipo Ok Come si Come si E basta Che pirla Shift Tasto destro per togliere la sella Che figata la sella Ragazzi ma poi che figata Guardate i draghi Ok Mi suona il cane Ma vai al campanello Arrivo Ok Dopo aver risposto al cane E chiuso il campanello Ragazzi Guardate che figata la pietra Che poi Ha la texture diversa Uno a un cubo e l'altro Non è sempre la stessa Che si ripete Ci sono molte skin Di texture Mischiate tra di loro Vedete Che figata ragazzi No dai che figata Se non fosse che mi cambierebbe gli items Gli items Veramente sarebbe figa 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 Io odio le texture purtroppo Che mi cambiano Ma stiamo scherzando No Porco trutto I believe I can fly I believe I can fly And the moon when the wind the day Che Figata L'entrata Ah qui ho fatto le mappe Se notate Dopo ve le spiego Ragazzi Ma guardate qua i cespugli Tutto in 3D Cioè ma stiamo Scherziamo Stiamo Questa cosa è la carne marcia Rotten flash Che cacchi è Una pannocchia No raga 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 Mi sistemolino No no io mi sono innamorato Io non esco più di qua Fu del cavallo del web No raga Io non esco più di qua Allora devo fare delle scale Arrivo Ragazzi Da notare il pane Che pane Ho cambiato la texture qui Intanto ragazzi volevo farvi vedere le mappe Non so se ve le ho fatte vedere In poche parole La già le avevo Una già l'avevo Una che ha fatto un'altra E guardate Noi possiamo girarla Dovrebbe essere così Dovremo andare Delle altre parti A sbloccare altre mappe Per cui un altro obiettivo Che potremmo fare Nei prossimi giorni Eh Allora 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 Come far a copiare i cavalli Prendiamo Delle carote Se le abbiamo Abbiamo delle carote Sì che abbiamo le carote Ne prendiamo tipo 5 No Vabbè ne bastava una Prendiamo delle pepite d'oro Delle pepite d'oro E dobbiamo fare delle carote d'oro Ok Si fa o con le mele d'oro O con le carote d'oro Forse con le mele d'oro Un po' più rapida L'ambaradam Con le carote d'oro Un po' più Un po' più Andiamo a vedere Andiamo a vedere Andiamo a vedere Poi dovremmo avere in giro Dei seeds Dei seeds Dei seeds Dei seeds Eccole qua Delle pannocchie Dei seeds Mi servono Perché Perché ragazzi Voglio fare un fienile No Tutta una Una Come si chiama Una vasta gamma Sì una vasta gamma Che sto venendo Televisori Una I rumori Sono fantastici Ragazzi Di questa resource pack Veramente Dicevo Una Vabbè Poi ve lo spiego Ragazzi Non mi ricordo Dai Non mi state addosso Poi ve lo spiego Ok Allora Vediamo un po' Se con le carote d'oro Si accoppiano Guardate Bam Bam Vediamo se Fanno l'amore Guardate Belano Belano Cioè ti dà anche l'esperienza Ti dà anche l'esperienza Signori Abbiamo il cavallino Mamma mia Mamma mia Mamma tua Mamma nostra Abbiamo il cavallino Il nostro primo cavallino Di questa serie Wow Wow E ricordiamo ragazzi Il cavallino Prende Sta crescendo Se notate Prende le similianze Le simianze Le similianze Prende Tutte le caratteristiche Un po' Dai genitori Un po' Dalla mamma Un po' Dal papà E E E E In questo caso Invece Viene identico Perché se notate I cavalli Senza farlo apposta Sono identici Guardate la macchia in fronte La gamba bianca La gamba scura Vabbè Comunque Ora andando dietro Intanto notare ragazzi Il secchio d'acqua Guardate che figata Andiamo dietro Mangiamo il pane E anche la torcia Una figata Dobbiamo prendere Delle pannocchie Tante pannocchie Allora bisogna andare giù Anzi qua bisogna fare Anche tutta una scalinata Fatto bene Lavorato bene Poi Leggendo I vostri commentucci Ho letto Di fare un ponticello Qua nell'acqua Faremo anche egli Anch'esso Anche quello Ecco No ma che figata giù ragazzi Mamma mia Ma si muovono Ma si muovono Vabbè Raccogliamo tutto Una volta raccolto tutto Ragazzi qua Dovremmo avere altri semi Eccoli qua Sono abbastanza tanti Mamma mia Perché ho preso tutti questi semi Intanto facciamo qualche panino Visto che abbiamo un bel po' di stack Un bel po' di stack Il kaiser Ne abbiamo due stack Io farei uno stack di panini Guardate Pam Perché ci servono E con l'altro stack Invece lo utilizzerei Per fare il fieno Bam Abbiamo il fieno Le balle di fieno Si chiamano balle? Si chiamano balle? Balle o palle? Balle Le balle palle Le balle palle Allora Ho preso le scale Non ho preso le scale Però ho preso Non ho preso nulla Andiamo un attimo a casa Prendiamo Prima che mi dimentichi Perché puoi lasciare i pezzi in giro Così Mi sta sulle balle Ecco A proposito di balle Guardate che figata A proposito di balle A proposito di balle Mi stanno sulle balle Le cose fatte con le balle No Questo lo lascerei In questo modo Così Prenderei Eh però mi servono delle scale Per cui 1,2,3,4,5,6,7 Erano buono Non mi ricordo più Non mi ricordo più Sinceramente Sincerando Andiamo a vedere Andiamo a vedere Erano 6 Perfetto Me ne fa 4 Lo so che è notte Andiamo a mettere La scalinata La scaletta La scalacce La scalacce La Qua E ragazzi qua Guardate che figata Se facessi una cosa del genere Per esempio Guardate No 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 Ora io Io pretendo un pollice in su Io lo pretendo Io adesso Cazzo voi mettete un pollice in su Cazzo Cazzo Mettete un pollice in su Cazzo Cioè ragazzi ma Guardate attentamente Io non parlo Vi spiego ma non parlo Quando io rompo un cubo Cambia la texture Guardate Cioè ma state guardando Cioè ma state guardando Ma un hashtag GG cazzo Cioè scusatemi eh No no Veramente Veramente No vabbè ma Ma no Cioè ma ma no Io ci metto dentro la pietra Per far cambiare tutto E far proprio Anticuo Proprio vecchio Deve sembrare vecchissima La costruzione I discepoli I discepoli Degli antenati Mamma mia Mamma mia Ok Andiamo nella stalla Perché Andiamo a dormire Oggi dormiamo in stalla Ragazzi Sì sì Oggi dormiamo nella stallola A parte che Oh 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 Cane attacca Bobby Ma no ma lascia anche l'ombra Allora mettiamo qualche torcia Perché poi metteremo anche Delle luci Qua vuole fare Dei lampioni automatici Ragazzi Perché quando viene la notte Si accendono Poi vi farò vedere Anzi magari lo faccio proprio Nel prossimo episodio Dovrei avere tutta l'attrezzatura Attrezzabile Attrezzevole Attrezzante Allora mettiamo giù il letto Ci facciamo una bella dormita Nel fienile Con i cavalli Con la puzza di letame Che fa sempre bene I polmoni Rompiamo il letto E ragazzi 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 Guardate Abbiamo delle balle di fieno Noi le andremo a mettere qua Ehi Cioè Mandovi nei mail Prima di crescere Però ti spostare Eh Cane Cane Ti devi spostare Come faccio a spostare il cavallo ragazzi Ti spostato Dai Dai Oh Perché ho messo Fammi scendere Perché ho messo il fieno Perché dà un po' più di bellezza Però se non erro sbaglio I cavalli dovrebbero mangiare Ah però adesso in base a come lo metto Perfetto I cavalli dovrebbero mangiare il fieno Vabbè io metto una Una balla Perché Perché fa figo Perché fa figo Ora ragazzi Mi serviranno un sacco di pannocchie Andremo qui di dietro E faremo Delle distese Di Di pannocchie Perché Buongiorno Ha dormito anche lei qua dietro Perché Faremo Il Pagliaio Per poi andare a fare anche magari un eventuale Eh Come si chiama Mulino A vento Per Per il pane Ora si Dà fastidio magari questo effetto Mentre si taglia la terra Però guardate la terra Mamma mia Mamma mia No Ma mi è scoppiato un creeper Mentre scavavo Ragazzi Voi non avete sentito il rumore Di quando si fa male Non lo avete sentito Ora lo faccio sentire Aspettate un attimo Rimetto Chiudo un attimo il buco Ragazzi No no Voi non avete sentito Quando si fa male Il rumore Ora ve lo faccio sentire Guardate Vediamo se riesco a farmi Eh prima mangio però Perché se mi faccio Ai 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 adesso Ci crepo Guardate ragazzi Ascoltate attentamente Ascoltate Però cambia ogni volta È sempre diverso Basta giocarci ragazzi Perché C'ho due cori Posso rischiare di creparci Da notare come sia Random anche la terra Guardate ogni tanto fa L'erba Ogni tanto fa normale Magari con la texture un po' cambiata Ogni tanto fa i sassolini Mamma mia ragazzi Mamma mia Ma che si sono inventati Con questa texture Mamma mia Mi crafto Una pala Qui direttamente ragazzi Dalla cosa Qua dal vetro Perché finisco questo pezzettino E ho finito E sono subito da voi Sto correndo ragazzi Per andare a raccogliere Della legna Visto che l'ho quasi terminata E mi serve un po' di legna Che fighi fiori Stavo pensando ragazzi Ho trovato dei cavalli in giro E ho venuto in mente una cosa no Se i cavalli belano Ma il cavallo bela Il cavallo non bela Chi ha detto che bela Il cavallo bela Boh Ragazzi scrivetemi in chat Qual è l'animale che bela Ve lo giuro C'ho un vuoto di memoria Comunque La mia domanda era Se quell'animale bela Belen Eh 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 Vabbè lasciate stare E comunque la pecora Che bela Porca trota Porca trota Per cui Belen Vabbè lasciami stare Di nuovo guarda Ragazzi Io oltre a pensare A pecore e Belen Cioè scusatemi un attimo Ma avete visto La texture degli alberi Ma state Ma state ammirando Osservando La texture degli alberi Ragazzi Che mi sembra di essere Realmente in un bosco Cioè mi sto facendo paura Da solo Mi sto cagando sotto Da solo Cioè no 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 Questa texture Ha vinto tutto 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 Craftiamo delle scale Visto che abbiamo fatto Un po' di legna Delle scale Appunto con questa legna Quante me ne vengono 36 dovrebbero bastare Voglia Perché guardate Voglio metterle qua Voglio metterle qua Perfetto Così Così facciamo Il salto doppio Facciamo Pirla Togli Ok Le me Vabbè guarda Non ho parole Non ho parole Cioè ne avrei tante da dire Però in un video Uno magari si trattiene Eh Porca loggia Ok Abbiamo messo quelle Ne mettiamo anche qui Mi è leggermente squillato Che cacchio era Che cacchio era Sto rumore La texture Si è rimbicellita D'improvviso Proviso Ok ragazzi Qua potremmo fare Tutte le distese Tutte le distese Che ne dite Qua dietro Allora Mi servirebbe un po' di roba Ragazzi adesso Che magari faremo nel prossimo episodio Non lo so Allora Mi servirebbero Lo facciamo in questo Facciamo un po' Più lungo Dai Allora mi servirebbe Delle Delle zappe Delle zappe Un bel po' di zappe Orca loggia Un bel po' di zappe E zappare tutto Volevo fare un altro Un'altra leva Perché ragazzi Guardate che figata Con questa texture però Dove ho messo un bastoncino C'era Non ho un bastoncino Vabbè Poi ne faccio un'altra Guardate Mettendo la leva Sembra una sorta di Non lo so Avete presente Quelle case vecchie I lavandini C'erano i lavandini Con le pozze dietro Vabbè Quelle cose lì Comunque Ho fatto qua Per prendere l'acqua infinita Voila E voila Ragazzi Ora sta arrivando Anche la notte Dobbiamo contare 8 blocchi Più o meno da qua Allora facciamo 1 2 2 Come facciamo? Da qua 1 2 3 4 5 6 7 E 8 No sono pirla Sono 4 1 2 3 E una 4 Bam Ok ci mettiamo l'acqua Per cui Andiamo a dormire Andiamo a dormire Ma mi hanno rubato il letto? Ah no Sono pirla Quasi quasi lo lascio qua giù il letto Tanto per adesso non mi serve Ok facciamo una bella dormita Ragazzi andiamo a piantare Tutti questi semi Ora ho fatto un po' di Di ambaradam Qui di Di come si chiamano? Le zappe Ok che figata le finestre Mamma mia ragazzi Mi sono innamorato di questa texture Potrebbe Potrebbe Diventare una delle mie texture preferite Ok Ora Un attimo di abitudine Magari con gli items Ok Ok Ora abbiamo messo le torce Abbiamo fatto le distanze Possiamo finalmente Zappare tutto L'ultimo pezzettino Ragazzi devo ammettere Che è stata una rottura di balle Una vera rottura di balle Ok Si sta scurrendo Se notate Ok ragazzi Questa è piccola Ecco sono pirla io Questa è piccola Pensate che bisogna fare Le lunghe distese Ok Io forse qua Potevo anche fare Separatori 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 Però così va bene Dai Va bene Ora bisogna piantare Tutti i semi che abbiamo Ragazzi Non mi raccordo Che brutta Che brutta la strega Che brutta Cioè che brutta È fatta bene Porca loggia Porca loggia Si è fatta bene L'avete vista Stoppate il video Riguardatola ragazzi Mamma mia A dopo Ragazzi non ci credo Per un pelo Le finiamo tutto Guardate Per un pelo Mancano due Quattro Sei Otto Che potremmo anche Andarle a prendere Volendo Però Non c'è fretta Non c'è fretta Ecco qua La nostra distesa Ora logicamente Dovremmo metterli Della luce Come mettere Della luce Sono un pirla Come mettere Della luce Perché sono un pirla Ah posso Posso Che figatola Posso Ecco Però sono un pirla Peggio di un pirla Sono un pirla Peggio di un pirla Facciamo così Li mettiamo alle torce Che è sto rumore Vabbè Però Mo si che sono un pirla Ma peggio di pirli Ho tolto l'acqua Ho tolto l'acqua Ho tolto il seme Ho tolto tutto Questo è il vento Qualcuno che canta C'è paura Ok facciamola anche agli altri Ok Mi rimasta solamente una torcia Ho carbone dietro No Devo mettere altre tre torce Ragazzi Abbiamo fatto la distesa Iniziato a fare la distesa Vi ho mostrato questa texture Abbiamo fatto un sacco di cose Anche oggi E però Siamo giunti Alla fine del video Mi raccomando Tanti like E ci vediamo Al prossimo Un bacione Un abbraccio Ciao a tutti